Sì, fa piuttosto effetto. Non far finto di niente, lo so che sei terrorizzato perché è incredibile. E se te lo dico io, puoi fidarti. Capirai, sei diventato semplicemente un Super Saiyan, no? Ah ah ah. No, Freezer, in realtà non è proprio così. E devo ammettere che è un po' complicato da spiegare. Provo così, in pratica, questo è un Super Saiyan per un Saiyan che ha il potere di un Super Saiyan God, capito? Un Super Saiyan per un Saiyan che è il potere di un Super Saiyan God, altro che complicato, è un Rez. È un demonio di capo, è uno sciandilingua, è talmente astroso che non lo riesco nemmeno a dire. Avanti, ora fammi vedere il risultato del tuo allenamento. Su, coraggio.